Alberto, ti ringrazio moltissimo di aver accettato questa chiacchierata. Io vorrei farti complimenti innanzitutto per la modalità con la quale svolgi il tuo lavoro. Questo per una questione anche di tipo personale, perché questa tua modalità mi permette di percepirmi come un soggetto attivo dell'informazione, che è una cosa abbastanza rara, soprattutto in questa fase storica, in quanto il vissuto di partecipazione mi permette di aprire il pensiero e non di chiuderlo, come normalmente invece accade di fronte all'informazione. E quindi risveglia quello che è il mio pensiero critico. E credo che questo possa accadere alla maggior parte della gente. Quindi per questo io volevo aprire facendoti i complimenti. Ti volevo fare i complimenti per il premio che hai ricevuto a giugno all'Ilaria Alpial, il premio ricevuto da Riccione, e per il filmato, il filmato che è prodotto insieme a Stefano Maria Bianchi, La mafia è bianca. Voglio dire che quello che hai detto è bellissimo per un giornalista sentirsi dire una cosa del genere. Ti ringrazio, ti ringrazio io a te perché è veramente stato esaltante, credo che lo sarà ancora perché l'ho già visto tre volte questo filmato. Non sto esagerando, perché mi ha dato tantissimi spunti, anche perché essendo io un medico chiaramente mi sono sentita colpita particolarmente, e mi azzarderei anche a dire, e credo di non esagerare, che quello che voi avete raccontato in Sicilia, adesso magari non in maniera così eclatante, però questo sistema posso definirlo paramafioso, insomma, io lo vivo anche qua da noi, insomma. Infatti quello che noi raccontiamo in Sicilia è qualcosa di eclatante, come hai detto tu, di fronte a una situazione che è rappresentata dalla criminalità organizzata, viene chiamata mafia, cosa nostra, ma in altre situazioni, in altre regioni non c'è una situazione di quel tipo, però quello che raccontiamo è qualcosa che riguarda tutto il paese, cioè su questo non ci piove, anche perché la legge, le leggi che determinano questo sistema riguardano tutte le regioni d'Italia, quindi la mafia bianca, probabilmente cambiando il titolo, ritoccando il titolo potresti ambientarla in Campania, potresti ambientarla in Lombardia, potresti ambientarla in Emilia-Romagna. Ovviamente in Sicilia tutto è ipertrofico, cioè se gli accreditamenti in Lombardia sono una sessantina, in Sicilia sono più di 1800. Tu sei medico e sai benissimo di cosa stiamo parlando. Esatto, infatti devo dire che il vissuto mio nel vedere quel filmato e rivederlo e rivederlo e leggere il libro mi ha creato proprio una sensazione di angoscia. Credo che questo tutto sommato vada anche bene, perché vuol dire che il messaggio è arrivato chiaro, è arrivato netto, insomma, quindi i complimenti sono veramente dal profondo del cuore. Io ti volevo chiedere, secondo te che fine ha fatto il giornalismo d'inchiesta e se davvero l'informazione, in particolare poi quella televisiva, che è quella che poi arriva più immediata, perché arriva attraverso l'immagine, ha perso la vocazione del quarto potere. Ma io credo che il giornalismo d'inchiesta da tempo non se la passi bene in Italia. Qualcuno in un saggio ricordava un articolo, una riflessione di Giampaolo Pansa di una ventina d'anni fa, in cui lui stesso si domandava che fine ha fatto l'inchiesta in Italia, elencando le cose che stanno dietro l'inchiesta, cioè ci vuole tempo, ci vuole un giornalista determinato, motivato e documentato, ci vuole un editore che si affida al tuo lavoro e ti dà il tempo per realizzare il tuo lavoro, e ci vuole soprattutto, cosa fondamentale, che secondo me è poi il cuore della questione, ci vogliono giornalisti liberi e ci vogliono giornali testate liberi e io credo che questo non ci sia, io credo che in Italia la libertà di espressione non se la passi bene, non ci sia un'informazione libera e dicono una cosa che ormai è diventata una banalità purtroppo, perché per anni ce lo siamo detti, l'abbiamo visto scritto su alcuni giornali, l'abbiamo intravisto in qualche dibattito politico, solo intravisto, però non si è fatto veramente nulla per contrastare l'annichilimento dell'informazione. Sono responsabili in tanti, ma credo che non si possa parlare di vera democrazia se non c'è un'informazione libera, l'informazione libera in questo paese non c'è. Assolutamente. Io ho pensato a una cosa, che in effetti ormai l'unica cosa che davvero fa la differenza nella proposizione informativa sia il profitto, l'audience in qualche modo, e quindi che non siano tanto i direttori di testata a questo punto a fare le proposte, a fare delle scelte, ma che siano un po' i pubblicitari, o è una sciocchezza che non hai detto ai lavori percepisce. Questo c'è, ma non è solo questo, secondo me non è il punto più importante. Io faccio parte della squadra di inviati di Chouchard, Chouchard era per i pubblicitari la prima scelta, perché era un programma che faceva audience, e gli spazi pubblicitari di quel programma erano i più ambiti e i più costosi. Quello era un programma che si pagava praticamente, completamente con gli introiti pubblicitari. Quindi questa, ed è anche una cosa che è stata usata dalla destra che poi è andata al governo, dicendo che bisognava trovare programmi che portassero soldi nelle casse della televisione pubblica. Chouchard è stato sostituito con un programma, hanno cambiato il conduttore, hanno cambiato il programma, hanno cambiato ovviamente il modo di raccontare le cose, è scomparsa la realtà. Quello è un programma che faceva il 4%, il 5% di ascolti. I primi ad andarsene, prima ancora dei telespettatori, sono stati pubblicitari. Quindi è anche un po' un errore pensare che l'inchiesta non sia redditizia da quel punto di vista. L'inchiesta è qualcosa che costa, costa in termini di tempo, in termini di soldi. In un paese che ha un sistema informativo sano, in cambio ti dà successo e prestigio. Qui mancano un po' tutte le cose, perché non c'è una testata che investe, spesso i grandi testate non investono più tanto nell'inchiesta, ma per motivi politici soprattutto. E quando invece ci sono giornalisti come Siegfriedo Ranucci, che fa un'inchiesta nella televisione pubblica, sorprendente, clamorosa, eccezionale, invece di approfittare in questo momento di prestigio per una qualsiasi testata, la stessa azienda che ha prodotto in qualche modo quel lavoro di inchiesta, quel lavoro di grande giornalismo, fa finta che non sia avvenuto. Intanto ci sono 1100 televisioni intorno al mondo che chiamano Siegfriedo Ranucci e la Rai per il mi dai quei 25 minuti di inchiesta sul fosforo bianco. Io ho l'impressione che si sia abbassato il livello culturale in assoluto, e dal punto di vista politico e conseguentemente dal punto di vista informativo. Questa è una cosa che come ascoltatrice, come usufruitrice del servizio, un pochettino mi offende, credo che sia anche comprensibile, perché quando accendi la televisione e segui qualche trasmissione, che dovrebbe essere di informazione, e ti rendi conto che non ti dà dell'informazione o comunque che utilizza un linguaggio molto povero anche. Non sento più coniugare un congiuntivo da che moco. Questa è una cosa che mi dà fastidio, un po' come il gessetto sulla lavagna. Tutto sommato ti aspetti dal giornalista che ti dia degli stimoli, un po' come dicevamo all'inizio, che ti faccia sentire partecipa, che ti faccia sentire parteattiva del messaggio che ti vuole dare. Quindi ti dia degli stimoli tali per cui poi quando hai spento la tv, magari vai a letto o ti leggi un libro e cominci a pensare. Quello credo che sia giornalismo, quello credo che sia informazione e non trattare da idioti gli ascoltatori, perché poi noi ascoltatori alla fine ci dispiace essere trattati da idioti. E quindi quando ci vediamo determinati filmati, determinati documentari, come appunto quello che abbiamo visto stasera su Fallucia, oppure il lavoro che avete fatto voi, la maffia bianca, il lavoro che ha fatto Stefano Mencherini su Mare Nostrum, che ho gradito anche altrettanto, insomma a quel punto lì ti senti veramente un ascoltatore degno di essere rispettato. Quindi trovo che voi ci rispettiate notevolmente. Io parlo del nostro lavoro, della maffia bianca, mi chiedo tanto perché una storia come quella che raccontiamo noi non è stata raccontata dai programmi di approfondimento che ci sono e che stanno sopravvivendo in Rai e su Mediaset. E poi mi chiedo, veramente potrebbe andare in onda la maffia bianca in questa televisione, cioè in una televisione che è praticamente, che lavora praticamente su commissione politica, perché questo è il fatto, non è una questione economica, è una questione politica. Lavora su commissione politica, potrebbe andare in onda un'inchiesta come questa che pone pesanti questioni, per esempio su un governatore in carica per la prima volta in Sicilia, abbiamo un governatore che è sotto processo per mafia, su un partito, che è un partito che si chiama Udc, di cui tutti parlano perché pare essere così fondamentale negli equilibri e nelle prossime elezioni. Allora, potrebbe andare in onda, secondo me è difficile che vada in onda, dovrebbe andare in onda, dovrebbe andare in onda, è una storia sulla quale bisognerebbe fare gara tra giornalisti per avere l'esclusiva di una cosa o di un'intervista o di un'intercettazione o di una fetta di una storia che poi in realtà è tentacolare, che non riguarda, come abbiamo già detto, solo la Sicilia. Invece questo ovviamente non è colpa solo dei giornalisti perché il giornalista racconta una storia se il suo caporedattore, il suo direttore vuole che questa storia sia raccontata. Sempre riferimento al lavoro che avete fatto sulla mafia bianca. Mi vengono alcune domande che cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa nella mafia. Sembra che le stragi siano lontane, questo è stato detto anche stasera durante il seminario. Sembra che gli individui dal look sanguinario tipo dottori Inano siano stati sostituiti dagli uomini col camice bianco. Vi parla degli uomini con i colletti bianchi adesso parla degli uomini con il camice bianco. Sempre bianco. Sì. Quelli timorati di Dio, gli ex democristiani, mi permetto di citare anche da un partito che non esiste più, dicono, no? Quelli moderati. Ma è così, ma anche questo è un luogo comune che non è più diventato non è più luogo comune cioè la mafia storicamente è questa cosa qui non fa rumore cioè lo stragismo è un momento di crisi è un momento eccezionale è spettacolare di cosa nostra. La mafia nella sua storia ha sempre ha sempre vissuto ed è sempre ingrassata ha stretto contatto con la politica nel silenzio quindi anche quando recentemente insomma dopo le stragi si è detto la mafia non fa più rumore forse è entrata in una fase di declino abbiamo cominciato a dibattere su questo argomento in realtà la mafia sta benissimo ma sta proprio bene e noi ne raccontiamo solo un pezzettino cioè abbiamo preso la sanità come come punto di incontro devastante tra il potere politico e il potere mafioso ma per esempio appunto la sanità è una realtà dove la mafia si insinua tranquillamente dove fa profitto dove fa grandi perché la sanità muove tantissimi soldi milioni e milioni di euro e lo fa non sporcandosi le mani a me piace molto una cosa che tra l'altro aveva scritto anche Enrico De Aglio il suo diario che abbiamo anche incontrato io ho avuto modo di parlarne con lui su questo passaggio questa metafora che ha usato lui cioè la mafia che decida a un certo punto di investire sul traffico internazionale di stupefacenti e quindi si rivolge a una clientela che è quella dei tossicodipendenti che sono un certo tipo di clientela poi però potrebbe scoprire di poter investire sulla sanità specialmente magari sulla dialisi e quindi puntare su un cliente che è un dializzato che è molto più affidabile di un tossicodipendente perché il tossicodipendente o smette o magari finisce male e quindi non puoi più contare su di lui un dializzato invece ti campa serenamente magari per 30-40 anni e tu la sua dose gliela garantisci 3-4 volte a settimana e non ti sporchi le mani che messaggio che passa se deve passare se deve venire fuori qualcosa ma comunque tu stai facendo qualcosa di buono stai investendo nella sanità non stai investendo nelle ruine tu pensi che ci sia un legame tra il reset della politica italiana post-Tangentopoli e questo apparente cambiamento ai vertici della mafia perché un po' l'ho percepito beh io credo che il cambiamento ai vertici della mafia se parliamo della mafia di Provenzano io penso che tra la strategia di Riina e la strategia di Provenzano ci siano chiaramente grossissime differenze anche su questo è stato scritto ma nemmeno troppo ma insomma pare che Provenzano non fosse così d'accordo su certe scelte della mafia dei Corleonesi adesso si parla di inabissamento di una mafia che si è inabissata e questa sarebbe la grande strategia di Provenzano ripeto è qualcosa che avveniva anche prima io penso che ci siano perché ci sono i fatti a documentarlo un chiaro legame tra le scelte dei vertici di Cosa Nostra e gli eventi che hanno un po' scosso la politica nazionale dopo Tangentopoli guarda caso le stragi arrivano proprio in quel periodo dico solo una cosa a un certo punto la mafia quando perde il referente politico storico cioè la democrazia cristiana già lo ritiene poco affidabile a un certo punto la mafia di Brusca di questi personaggi qui che sono quelli che spingono il telecomando che fa saltare in aria Falcone solo per ricordare una delle cose che hanno fatto decide di farsi partito da sé sembra un'idea folle ma ci fu questo partito Sicilia Libera che come dire va bene non abbiamo più un referente politico ci facciamo un partito noi così andiamo in Parlamento noi direttamente un'idea assolutamente balzana per certi versi balorda però ci possiamo ricordare di un'insegna di una sede di Sicilia Libera che una mattina non è più sede di Sicilia Libera ma è sede di un nuovo partito che si chiama Forza Italia infatti è quello che un cittadino comune ignorante come posso essere io ha un pochino percepito questo viraggio verso questo nuovo partito senza mi permetto di dire ideologie ecco di insomma non sento che ci sia questo substrato ideologico dietro questo partito poi ognuno la può pensare come di pari siamo in democrazia questo dà un po' fastidio ad alcuni rappresentanti anche di una vecchia mafia il già citato Giuseppe Guttadauro che è medico e che appartiene a una lunga storia di mafia non è una cosa recente la sua e non è un caso che Provenzano pensi a lui quando deve trovare un sostituto dei fratelli Graviano a capo del mandamento di Brancaccio che è il mandamento più importante di Palermo vuole un medico che tra l'altro non è di Brancaccio ma è di bagheria cioè l'enclave di Provenzano la terra per esempio dove viene fuori da qui viene fuori questo ingegner Aiello che è poi il proprietario di Villa Santa Teresa e quando io mi sono ascoltato ma ti parlo di ore e ore di intercettazioni ambientali di casa Guttadauro ho avuto la fortuna e la possibilità di entrare nella mentalità del mafioso perché praticamente lui in questo salotto riceveva tutti da politici a colleghi di mafia a liberi professionisti e più volte lui ribadiva questo concetto che appunto lui è sempre stato democristiano e la sua passione era buttiglione io sono malato di buttiglione dice più volte nel senso che un po' questa cosa che si legge nelle chiacchierate di casa Guttadauro cioè dell'appoggio che la mafia ha dato a un certo punto a Forza Italia certi mafiosi non si fidano più tanto di Forza Italia ecco il più tanto è quello che mi sembra che ci stia c'è stato un primo viraggio poi mi sembra che Marcello Dell'Utri che appena recentemente ha avuto una condanna per mafia adesso non se ne parla e Dell'Utri sta organizzando la prossima campagna elettorale del principale consulente di Berlusconi anche se è un condannato per mafia assieme a Previti che è un condannato per corruzione ma questa è un po' l'anomalia di questo paese però sai c'è anche chi legge in Dell'Utri un po' potrebbe essere quasi un lima dei tempi nostri cioè per certi mafiosi non è più possibile affidarsi a certi personaggi se prima credevano in loro adesso magari un po' perché hanno problemi con la giustizia un po' perché magari non hanno dato tutto quello che avevano promesso di dare e io dico solo cose che ho sentito con le mie orecchie e quindi dici lui c'ha i suoi problemi io sono sempre stato democristiano per tornare alla tua riflessione sui valori cioè c'è questo carattere anche molto legato ai valori ai valori anche della chiesa del mafioso il mafioso poi adesso non è più non c'è più l'iconografia del mafioso un po' bifolco con la coppola e con la coppola e l'uomo poi quello che mi ha anche colpito tantissimo sono le dichiarazioni della gente la dichiarazione della gente di giorno questo però è un aspetto tu fai riferimento alle persone che intercettate per strada ti dicono ma la mia vita senza la mafia sarebbe peggiore oppure la mafia la mafia è una cosa bella la mafia è buona la mafia è buona i mafiosi sono dei santi questo è un aspetto che però non va sottovalutato secondo me perché proprio a livello sociale non è detto assolutamente che alcuni assaggi di modernità o di sussistenza o se vuoi anche di rispetto sia più possibile averli da da un parastato che è quello mafioso che dà lo Stato quindi questo è gravissimo perché vuol dire che per quelle persone io un po' questo l'ho letto nelle loro parole nelle loro reazioni che è quello proprio di dire vabbè ma probabilmente la mia vita cioè io se ho bisogno di soldi per campare mi li dà il mafiosetto di turno e lo Stato lo Stato non c'è non c'è quindi quindi mi chiedo veramente se fossi nato anch'io a Bagheria con quei piccoli centri di campagna dove lo Stato proprio non esiste che tipo di reazione avrei avuto la domanda di un giornalistucolo che arriva da Roma a farmi domande sì questa domanda pressante ma tu non sei siciliano soprattutto con Stefano tu non sei siciliano perché lui è di Taranto quindi con me che sono di Modena magari non ci provano nemmeno più di tanto con lui ci hanno provato e un'altra domandina la nuova mafia di Bernardo Provenzano combina la finanza la tecnologia con il recupero delle tradizioni sempre per tornare al discorso delle tradizioni la mafia legata alle tradizioni come può tollerare le regole dello Stato e come a tuo avviso considera lo Stato stesso mi è venuto come il dubbio lo considera come un'opportunità assolutamente la mafia ci sguazza nello Stato ci convive e ha bisogno dello Stato sta allo Stato decidere se farti entrare dalla porta con la chiave che ti ha dato qualche giorno prima o farti entrare dalla finestra o sbatterti la porta in faccia sì l'impressione che gli abbia dato tutto il masso di chiave in mano comunque questa è un'impressione mia non ti voglio coinvolgere quindi secondo te il fatto che la mafia in questi ultimi anni sia stata relativamente silente ha un qualche legame con l'attuale governo? non si sa no no fammela meglio questa domanda fammela meglio in questi anni la mafia secondo me è stata piuttosto silente è stata un po' di tranquillità nessuna strage sangue eccetera e questa l'abbiamo detto no no ho capito la domanda non volevo fraintendere se la mafia se la mafia non è costretta a fare la voce grossa vuol dire che o non esiste più che assolutamente non è così oppure vuol dire che non ha bisogno di fare la voce grossa che la situazione attuale anche ovviamente nei rapporti con la politica va bene va bene mi sembra che sia diventato il sistema mafioso il sistema del buon governo nel nostro paese e questo è il punto che è gravissimo gravosissimo da tollerare per un comune cittadino dotato di quel minimo di buon senso sono assolutamente d'accordo e rifletterei su un omicidio terribile come quello di Fortunio per esempio che è sempre legato guarda caso al mondo della sanità Fortunio era primario del pronto soccorso di Locri Fortunio aveva una moglie che è direttore generale di quell'ospedale e Fortunio è stato ammazzato in pieno giorno nel giorno delle primarie in Calabria quindi è proprio un omicidio politico e sono sono da poco state rese ufficiali le nomine degli amministratori della sanità fatte dall'assessore calabrese ed è successo il casino all'interno dello stesso partito la Margherita sono messaggi chiari che devono far riflettere quindi quello è un po' di fare la voce grossa non un po' è fare la voce proprio grossa quella di andare a ammazzare il vicepresidente di una regione in pieno giorno in un momento politico importante come può essere quello delle primarie quindi vuol dire che la mafia lì ha sentito il bisogno di alzare la voce di fare la voce grossa dove non lo fa come in Sicilia vuol dire che non ne sente il bisogno cioè ci stiamo muovendo per sillogismi ma credo che sia abbastanza chiaro come ultima domanda poi ti lascio andare a mangiare perché sarai anche stanco la mafia di Guttadaure Provenzano giusto per fare dei nomi perché tanto mi sembra giusto poi anche fare è legato agli schemi della vecchia DC questo l'abbiamo detto prima lo ribadirei perché mi sembra piuttosto importante non pensi che la transizione berlusconiana io la vivo un pochettino come un fatto di transizione questa di questo governo berlusconiamo lo chiamiamo così ecco sia stata una sorta di modalità per risettare la DC non credi che si stia preparando il terreno per recuperare di nuovo il polo del centro io sono rimasta molto colpita dal discorso che nel luglio ultimo scorso quindi non tanti mesi fa a Roma al Palato Mati dal secondo congresso nazionale del nordicino ha fatto il presidente della Camera Casini insomma quindi non un uomo qualunque lo riporto poi tu lo ricorderai benissimo però insomma per ricordarlo un po' a tutti dobbiamo si reagire alle strumentalizzazioni e noi lo sappiamo fare Cuffaro alla presidenza del congresso lo dimostra ma non è certo mi soffiera l'occhietto esatto intanto è vero che era seduto così lì vicino si guardavano con quest'aria di complicità ma non lasciamo alla sinistra la lotta la mafia e la questione morale ecco questo l'ho sentito un po' come un pugno allo stomaco per me quello è il passaggio hai proprio preso il passaggio fondamentale una casa arriva praticamente alla fine del film ed è quello che ti apre il discorso a tutto il paese perché non è solo una questione siciliana sarebbe facile dire vabbè ma quelli sono in Sicilia io vivo in Veneto per dire e chi se ne frega no attenzione quello è un problema che riguarda tutto il paese la terza carica dello Stato il Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini bolognese come bolognese la pasta asciutta che mangiamo tra poco dice la questione morale non dobbiamo in realtà la questione morale deve affrontare lui in prima persona perché lui dice senza il voto della Sicilia probabilmente non esisterebbe o sarebbe un partito davvero davvero ridicolo poi in più c'è una riflessione da politologo e almeno i politologi fanno spesso cioè il ruolo fondamentale della Sicilia a livello nazionale per quanto riguarda le elezioni cioè chi vince in Sicilia ha grandi possibilità di vincere a livello nazionale la Sicilia è un laboratorio politico nel bene nel male soprattutto è una terra fondamentale per gli equilibri politici del paese allora che la terza carica del paese nonché compagno di partito di Totò Cuffaro sotto processo per favoreggiamento aggravato a cosa nostra non prenda una posizione sulla questione morale nel momento in cui non la prende il diretto interessato la deve prendere qualcun altro la dovrebbero prendere i suoi compagni di coalizione non solo i suoi compagni di partito ma non la prendono questo vuol dire che e nessuno fa una campagna su questo tornando al discorso dei giornalisti questo vuol dire che questo è un paese che sta vivendo una patologia gravissima perché a chi la lasciamo la questione morale ai magistrati questo sarebbe un errore clamoroso i magistrati devono solo dire hai rubato la candela al ristorante è un reato questo è è la pena che ti spendono bisogna vedere se sanno cosa significa la moralità che cos'è la moralità perché poi delle volte è l'etica delle volte a me viene quel dubbio però stiamo allargando però hai toccato il punto fondamentale io ti ringrazio Casini che guarda Cuffaro mi ha colpito veramente tanto e dopo una settimana era sempre ovviamente sotto processo stiamo parlando di quella persona lì è stato anche premiato con la vice segreteria nazionale del partito quindi non solo qualcuno gli ha fatto notare o c'è stato un dibattito interno al partito sei sotto processo per mafia bene vieni a fare il presidente del congresso nazionale e poi diventi anche vice segretaria nazionale questo è un po' strano è un messaggio molto chiaro è un paradosso è un paradosso grazie davvero tantissimo ti auguro buon appetito Arcoiris sarà la tua associazione anche a Paolo spero di rivederti presto